Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con i video di Overstep in questo video parleremo della prima pagina di Google la prima pagina di Google naturalmente è uno degli obiettivi più ambiti da tutti coloro che hanno un sito per renderci conto di come si è cambiato Google in questi anni possiamo prendere in considerazione questa query qui migliori aspirapolveri ci sono diversi tipi di risultati che escono fuori ed è una ricerca molto interessante dal mio punto di vista perché permette di evidenziare quanto si è cambiato Google come dicevo poco fa ma anche quanto effettivamente siano diversi modi per arrivare in prima pagina che non riguardano necessariamente quindi le attività SEO questi che vedete qui ad esempio questi che sono anche contrassegnati come annunci di fatto sono annunci di Google Ads quindi sostanzialmente questi inserzionisti qui rientrano in una asta in un'asta che viene appunto gestita da Google e chi fa l'offerta migliore in quel determinato periodo appare nella prima posizione quelli che sono presenti qui sulla destra sono risultati di Google Shopping scendendo più in basso possiamo vedere che c'è uno snippet in primo piano questo snippet viene generato automaticamente da Google se la pagina corrisponde all'intento di ricerca al cosiddetto search intent in maniera particolarmente calzante questi sono i primi risultati organici e qui vediamo una delle novità del momento che riguardano le FAQ se noi apriamo qua escono fuori altri siti quindi è una sicuramente una link opportunity molto importante perché se voi riuscite ad avere le FAQ all'interno del vostro sito potreste posizionarvi anche se il vostro sito non è ancora listato in prima pagina come potete vedere più clicchiamo e più ne escono quindi Google sembra voler lavorare molto su questo aspetto qui questi risultati qui si possono ottenere con il FAQ Page FAQ Page è una delle novità più interessanti che sono state introdotte da Google e molto spesso vengono anche trattate diciamo particolarmente bene dal punto di vista del posizionamento sono dei dati strutturati i dati strutturati possono essere inseriti o da codice oppure mediante plug-in e permettono di migliorare il rendimento dei risultati dando immediatamente all'utente un'idea di quello che è il contenuto della pagina in questo caso FAQ Page risponde a delle domande quindi qua abbiamo delle domande che hanno un nome e un Accepted Answer ovvero una risposta accettata che viene rappresentata come una stringa JSON che è questo formato strutturato che è abbastanza simile ad XML anche se è semplificato rispetto a XML e contiene appunto la risposta risposta che supporta anche l'utilizzo di alcuni tag HTML quindi voi potete sfruttare questo tipo di strumento per inserirlo all'interno dei vostri siti non avrete la garanzia della prima posizione perché quella ovviamente non è possibile averla in nessun caso queste sono un po' le domande più richieste da Google le domande che vengono fatte più spesso che sono state elaborate dal campione di siti che lui ha indicizzato si può lavorare molto c'è un buon margine a mio avviso da questo punto di vista la prima pagina di Google oggi è molto incentrata su questo aspetto qui quello che bisogna considerare in generale quando si parla di prima pagina di Google è il fatto che esistono più pagine di ricerca anche per la stessa ricerca se per esempio voi cercate migliori hotel io in questo momento sono già localizzato su Roma e mi vengono fornite delle risposte che sono relative a Roma se fate la stessa ricerca da Milano o da Firenze ovviamente otterrete dei risultati diversi è interessante notare che per esempio nel caso di TripAdvisor le FAQ sono state inserite in questo caso anche con un link sono state inserite all'interno di questa pagina in combinazione con una ricerca locale quindi mettendo insieme quello che vi dicevo prima con il fatto che le prime pagine possono cambiare in base alla geolocalizzazione come vi ho raccontato anche nell'articolo del resto ci sono diversi aspetti che bisogna considerare quando si considera una prima pagina la prima pagina è tutt'altro che univoca la prima pagina dipende dalla nostra posizione geografica come abbiamo visto dipende dalla pertinenza delle pagine rispetto a come scriviamo la ricerca possiamo scrivere la ricerca in modo leggermente diverso e otterremo dei risultati diversi in alcuni casi molto probabilmente rientra anche un discorso legato allo storico delle ricerche precedenti perché se per esempio state cercando come dicevo prima degli aspirapolveri voi avrete fatto altre ricerche prima di arrivare al punto quindi potreste essere per esempio informati su quelli che sono i principali modelli senza volerli ancora comprare a nessuno e solo successivamente siete andati nei siti di confronto delle varie offerte avete consultato i comparatori di prezzo siete andati a vedere che cosa dicono i blog specializzati su questo argomento quindi i cosiddetti siti verticali e così via in questo caso anche qui c'è una forte presenza dei risultati local queste sono schede google my business nello specifico perché google viene incontro al fatto che se una persona arriva qui probabilmente va e se lo compra diciamo materialmente un aspirapolvere quindi è interessato a cercare un negozio quindi possiamo dire che c'è anche un intento di ricerca se io questo vale soprattutto per le ricerche generiche se cerco aspirapolvere sto cercando informazioni su un aspirapolvere sto cercando un negozio di aspirapolvere e via dicendo sostanzialmente la prima pagina di google non può essere unica ci sono più pagine di ricerca diverse in base a chi fa quella determinata ricerca e quindi se da un certo punto di vista è più complicato inquadrare il discorso nei termini di riuscire a arrivare in prima pagina su google per una determinata ricerca che ci interessa da un altro punto di vista può essere più semplice considerare che ci sono più intenti di ricerca focalizzare l'interno dell'intento di ricerca giusto e cercare di spingere le nostre pagine in quella direzione lì quindi con pagine piuttosto focalizzate come sembra essere la tendenza diciamo degli ultimi tempi su google e quindi lavorando molto di content marketing così c'è il marketing dei contenuti ovvero io rispondo a delle domande degli utenti su google nella speranza che poi l'interesse possa indurre per esempio un acquisto che è pertinente a quel contenuto quando si parla di prima pagina di google in generale valgono sempre le solite considerazioni come faccio io a arrivare in prima pagina per arrivare in prima pagina bisogna considerare che questi risultati qui per esempio questi sono focalizzati sull'argomento della ricerca in questo caso anche su quello che è implicitamente sottinteso nella ricerca che sto facendo perché è come se stessi cercando migliori hotel Roma anche se non ho scritto Roma ma lui mi ha già localizzato e quindi come possiamo vedere i title sono ottimizzati con la parola hotel, con la parola hotel Roma migliori hotel di Roma e così via e questi siti soprattutto hanno un determinato trust cioè sono stati particolarmente valorizzati da google perché possiedono per esempio dei link in ingresso che ne hanno aumentato il valore e perché i loro contenuti vengono attivamente utilizzati e visualizzati dagli utenti e questo sicuramente per google è un fattore positivo all'interno delle impostazioni di chrome c'è un plugin molto interessante a mio avviso che potete utilizzare per analizzare le vostre prime pagine che si chiama SEOquake SEOquake è un'estensione di chrome che funziona anche per firefox per inciso che vi permette di vedere i vostri risultati di ricerca in una maniera un pochino più arricchita se voi per esempio andate a cercare migliori aspirapolvere quello che vediamo in questo caso è che anzitutto i risultati sono numerati sono numerati perché in questo modo noi ci possiamo rendere conto della posizione che occupa il nostro sito senza dover star lì a contarli singolarmente quindi senza dover utilizzare altri tool esterni la cosa veramente interessante è che se per esempio usate SEMrush potete vedere quelli che sono i link in ingresso al vostro sito c'è stato un periodo in cui si pensava che il numero di link influisse direttamente sul posizionamento però è piuttosto strano perché diciamo in questi termini è un po' più complicato perché per esempio questo sito qui ha soltanto un link in ingresso che risulta da SEMrush e questo secondo e il terzo ne hanno 39 e 22 quindi diciamo che non sempre i link fanno la differenza anche se sicuramente sono un fattore di posizionamento importante questo soprattutto se arrivano da portali particolarmente autorevoli motivo per cui si fanno anche le campagne di link building in questo senso che noi facciamo anche come come azienda e che cerchiamo sempre di trovare dei domini che possano linkare in modo utile quelli che sono i siti dei clienti se andiamo a vedere il numero di link quindi da SEMrush per vedere questo è necessario avere la versione a pagamento di SEMrush qui per esempio lui mi fa vedere il profilo di link di questo risultato qui voglio vedere soltanto un dominio quindi ci sono un totale di 4 domini di riferimento con 6 IP e quindi qui lui mi fa vedere l'URL target che è stato linkato e il tipo di ancora che è stata utilizzata questo è sicuramente uno strumento molto utile per capire che cosa hanno fatto i concorrenti per prendere anche un po' spunto insomma e poi naturalmente potete vedere il link in ingresso che è arrivato tornando al discorso della prima pagina di Google è anche importante quindi capire qual è lo scopo della ricerca capire se è informazionale, transazionale o navigazionale perché in base al tipo di ricerca che abbiamo si devono fare delle ottimizzazioni diverse in linea di massima aiuta molto l'esperienza aiuta anche una scelta accurata delle parole chiave per essere in prima pagina su Google bisogna anche lavorare bene on page sulla pagina web che si desidera posizionare e di riflesso anche all'interno del resto del sito perché ovviamente non basta potrebbe non bastare ottimizzare soltanto una pagina se il resto del sito ha altri tipi di problemi ovviamente resta sempre la regola di ottimizzare il tag title e di provare a rispondere alle domande degli utenti quindi quando abbiamo delle query che sono di natura informativa rispondere in modo molto preciso alla domanda posta dalla ricerca potrebbe farci guadagnare lo snippet in primo piano bisogna lavorare di link building quindi anche di PR sostanzialmente cercando di aumentare il numero di domini che elincono al nostro sito fare in modo che le pagine siano massimamente pertinenti e soprattutto misurare i risultati cioè rendersi conto col tempo di quelle che sono effettivamente le attività che facciamo quindi tracciarle preferibilmente nel tempo e poi valutare grazie agli strumenti offerti da Google o strumenti come SEMrush o SEOZoom monitorare il lavoro che stiamo facendo sicuramente oggi è un po' più complicato di quanto non fosse anni fa posizionarsi su Google perché ormai sembra che il vecchio paradigma della SEO si stia un po' perdendo quindi non basta più aumentare il numero di link ripetere le parole chiave perché questo vale soltanto per alcune nicchie che peraltro sono anche piuttosto ristrette in linea di massima poi dipende anche da quello che si sta ottimizzando quindi sicuramente bisogna essere in grado di aggiornarsi stare dietro un po' a quelle che sono le novità che Google ci propone ogni giorno quasi insomma e sicuramente dare un occhio anche ai rich snippets i rich snippets che possono fare la differenza anche se ovviamente nessun fattore isolatamente è più forte di altri è sempre una combinazione di tante cose che noi facciamo quindi mi auguro che questo video abbia risposto alle vostre domande vi do appuntamento al prossimo video un saluto da Salvatore di Overstep e alla prossima grazie a tutti